Le serate open air, per chi mastica poco l'inglese all'aria aperta, organizzate dalle aziende agricole, sono finite nel mirino della FIPE Conf Commercio della provincia di Rimini, che sottolinea l'incompatibilità tra le vigenti leggi e la nuova moda di questi eventi, sempre più diffusi sul nostro territorio. Si tratta di eventi in cui non vengono rispettate le più elementari norme igienico-sanitarie di sicurezza, con la mancanza di autorizzazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di spettacoli, attacca Gaetano Callà, presidente provinciale di FIPE Conf Commercio. Le aziende agricole possono aprire al pubblico per degustazioni, assaggio e vendita dei generi alimentari di produzione propria, non certo organizzare banchetti sotto le stelle con centinaia di coperti, se non addirittura spettacoli, prevedendo spesso, dice, un biglietto d'ingresso, senza strutture idoneamente attrezzate oppure autorizzazioni. Anche sul nostro territorio, continua Callà, tutto questo sta avvenendo sempre più spesso e ormai si è passato il segno. Si sta operando, dice, al di fuori delle normative vigenti, senza tenere conto di numerosi fattori rischi, dalla pubblica sicurezza si pensi ad esempio ad afflussi e deflussi, a quella alimentare con la preparazione e somministrazione di cibi effettuati in ambienti non idoni e con cucine spesso insufficienti per il servizio erogato, fino all'igiene pubblica con la mancanza di servizi igienici adeguati in rapporto alla numerosa clientela, rischi di contaminazione degli alimenti per l'assenza delle necessarie strutture di copertura, nonché pedane e superfici lavabili. La possibilità, aggiunge Callà, di offrire ai visitatori un assaggio della produzione, con conseguente vendita dei prodotti, sta diventando dunque un protesto per poter fare ben altro. Da parte di Fipe Conf Commercio possiamo dire, conclude, che non staremo a guardare, non riteniamo giusto questo doppio pesismo che purtroppo ci vede sempre soccombre. È arrivato il momento di far valere i nostri diritti.